è arrivato il grande giorno per i veli investors e non di tutto il mondo l'assemblea degli azionisti di Berger Hathaway due vecchietti miliardari hanno parlato per oltre 6 ore ho visto che ci sono state dirette su youtube film di articoli di testate giornalistiche e blog io stesso ho letto un po' in giro per ore e ore ho notato i migliori commenti tra CNBC, Yahoo Finance, Twitter e altri canali e vi voglio condividere qui la mia personale selezione risparmiandovi tantissime ore di ricerca e studio non volevo fare un video troppo breve e stream in sito ma volevo mantenere un po' di ricchezza di contenuti e toccare seppur brevemente tutti i punti trattati da Warren e Charlie si parlerà tra le altre cose del loro portafoglio di assicurazioni di marzo 2020 di fisco, cina, robinun scommesse e infine persino del bitcoin il video che in realtà è solo un audio durerà oltre mezz'ora quindi vi consiglio di scaricarlo e ascoltarlo ad esempio nel tragitto casa lavoro o casa università ascoltarlo a spezzone e accelerato in background mentre surfate internet è più un podcast che un video e forse creerò uno spotify appositamente lasciate un bel like di incoraggiamento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e si parte subito Warren Buffett ha comprato circa 7 miliardi di azioni nel primo trimestre del 2021 e poi ciò che possiamo vedere è che ha comprato 1,3 miliardi di azioni entro il 22 aprile posizione net cash 138 miliardi quindi hanno sottratto il debito e considerano cash anche i treasury short term l'equity per gli azionisti di 448 miliardi quindi significa che le azioni scambiano 1,4 volte il book value che sarebbe appunto il valore contabile poi qui un'osservazione che hanno fatto è che loro non hanno problemi a comprare debiti però il problema che sorge è che questo commentatore, anche io credo che questi rendimenti obbligazionari saranno negativi in termini reali, ovvero saranno inferiori a livello di inflazione a parità di duration poi qui parla del combined interest ratio di JCO se mi seguite su Instagram sapete già cos'è il combined interest ratio sostanzialmente è quanto fanno di margine sui premi raccolti includendo anche le spese varie di amministrazione dell'azienda e questo è dovuto al fatto che quest'anno ci sono stati meno incidenti perché meno persone guidavano a causa del lockdown c'è un'esplosione dei prezzi dei prodotti per costruire le case e poi qualcuno dice che gli dovrà chiedere se questa inflazione di questi componenti sarà solo transitoria o comunque sarà una cosa che dovrà permanere e poi glielo chiederanno poi fanno notare che lo stimulus effect ovvero i soldi che hanno dato direttamente alla popolazione hanno fatto aumentare i prezzi e lo spending in alcuni settori come automotive, vestiti, mobili da casa e varie e quindi siamo sopra i livelli pre-pandemici qui la mente è il fatto che sostanzialmente si è cambiata la normativa per contabilizzare quanto valgono i vari rami d'azienda o comunque le varie subsidiaries e non è più a valore contabile ma è al valore di mercato quindi ci sono più fluttuazioni e quindi se un titolo, ad esempio Apple in cui loro hanno una partecipazione varia molto a livello di prezzo di mercato poi questo si ripercuote sul bilancio e sul conto economico quindi da un lato può essere positivo perché è una visione più istantanea di ciò che sta accadendo ma dall'altro lato ci sono comunque queste fluttuazioni di gran lunga superiori a conto economico poi fa vedere una presentazione in cui mostra le 20 aziende più grosse per capitalizzazione 5 sono americane tra le prime 6 e poi dice ah gli Stati Uniti hanno fatto così bene poi dice di prestare attenzione perché nel 1989 le top 20 compagnie che c'erano a quel tempo adesso non esistono più o comunque non sono più nella top 20 e poi qui vabbè ha fatto un po' di cherry picking perché nel 1989 c'era la bolla stratosferica in Giappone e tutt'oggi non l'hanno superata non hanno superato quei livelli a livello reale a livello inflation adjusted infatti qui dice che della top 20 del 1989 13 erano giapponese la più grossa era la Industrial Bank of Japan e valeva 104 miliardi poi qui parla di una lezione di storia per i nuovi investitori ma nessuno gli stava badando attenzione qui tira una frecciatina alle compagnie automotive chiaramente a Elon Musk e Tesla c'erano migliaia di compagnie automobilistiche però pochissime sono arrivate fin qua e anzi nel 2009 sono praticamente fallite tutte inizia la sessione di domande e risposte la prima gli chiede perché sono stati così difensivi nella pandemia e questo commentatore dice che c'è un sacco di inside bias coinvolto se voi mi seguite su Instagram sapete già sostanzialmente il bias del senno di poi perché è facile dire se avessi comprato sui minimi certo bravo ma i minimi al tempo non è che potevi sapere che erano i minimi Warren Buffett ti dice sicuramente abbiamo sbagliato col senno di poi e dice che lui è il SIF risk management officer ovvero quello in carica della gestione del rischio all'interno di Bershey e poi dice che chiaramente non era una cosa sicura una cosa certa che il governo avrebbe agito nel modo in cui ha agito e che lui non era disposto a contare sul salvataggio del governo sostanzialmente e che lui non si fida della gentilezza di nessuno non si basa, non basa le proprie strategie sulla gentilezza di qualcuno Charlie Munger scatenato dice che quello che ha fatto la domanda è fuori testa sostanzialmente perché nessuno avrebbe potuto prevedere il minimo a marzo 2020 poi uno chiede se è meglio comprare un index fund al posto di avere azioni Bersher Munger dice ovviamente meglio Bersher mentre Buffett dice che è meglio l'index fund dell'S&P 500 e che non ha mai consigliato di comprare Bersher a nessuno qui non so se sia a livello legale il fatto che non l'abbia mai fatto però allo stesso modo gli dice che non ha senso vendere Bersher ora per comprarci l'S&P perché lui, questo questioner, questo che ha fatto la domanda era un azionista di lungo corso ora passano a parlare un po' di ESG parlano di Chevron che sarebbe quella multinazionale coinvolta nel petrolio e dice che Munger preferisce avere un genero che lavora da Chevron piuttosto che avere un professore di inglese a lavorare non so dove poi qui Buffett un po' più elegante dice, ah non pensiamo sia, o meglio non dice e non usa il termine asinino e dice che noi non facciamo una cosa perché abbiamo un dipartimento o meno e ciò che è importante è ciò che stiamo facendo con la branch energy di Berkshire e con le ferrovie e poi dice sostanzialmente non puoi andare sulle rinnovabili da un momento all'altro dice che è molto elettrizzato mentre lo dice e non puoi spegnere sostanzialmente un impianto a carbone finché non sai come trasferire l'energia generata dal vento nel luogo in cui serve attualmente e dice che è molto frustrato da queste domande che gli stanno facendo e poi fanno vedere che loro erano molto preparati già dal 2007 sui temi climate change e che quindi non c'è da interpretare questa loro reticenza un po' nel dire che non è tutto rose e fiori per le rinnovabili poi qui altra domanda interessante gli chiedono quando lui è il CEO di Jaiko non saranno più in the game e dovrebbero concentrarsi su short tail lines short tail business lines sono quei tipi di sinistri che vengono indennizzati praticamente immediatamente e sono di modico importo ed è praticamente certo che verranno indennizzati e quindi sono più facili da gestire come sinistri sostanzialmente poi gli risponde che stanno apprezzando gli unknown unknown ovvero ciò che non sanno di ciò che non potrebbero sapere però vabbè questa cosa nel gergo del pricing di un premio assicurativo si chiama caricamento di sicurezza quindi non è una cosa tanto raffinata questo commentatore diceva che è interessante poi parlano di Apple dicono che i loro prodotti sono indispensabili e che se dovessero scegliere tra la loro auto che si sta per distruggere il loro telefono sicuramente sceglierebbero il telefono e tutto ciò che è contenuto dentro e le persone sono dipendenti dai telefoni questo iPhone è Coca Digitale qualcuno le dice, qualche rapper qui parla del risk free rate che è a zero ovvero i soldi a cui le banche centrali prestano alle banche sono a zero quindi tu dovresti utilizzare un tasso di sconto stra basso che non è zero in realtà questo commentatore ha fatto un po' un errore dovresti usare il rendimento di un bond di uguale duration sostanzialmente e in America non rende zero questo bond e quindi se sconti con un tasso molto basso ovviamente le aziende vengono sopravvalutate e allora uno dovrebbe chiedersi ma questo tasso stra basso resterà così per sempre o sarà destinato a salire e quindi se sconti con un tasso più elevato il valore aziendale scende e scende pesantemente e qui Warren Buffett dice che questo è il film più interessante che abbiano mai visto e comunque dice che questi tassi molto bassi gli impediscono di avere dei rendimenti elevati sul float ovvero sui premi che loro raccolgono con le assicurazioni che poi vanno ad investire però dicono che loro sono in una posizione speciale hanno delle opzioni per investire che molti altri non hanno qui parla delle SPAC dice che c'è il termine di due anni per ogni fondo sostanzialmente per ogni veicolo di acquisizione quindi man mano che il tempo passa c'è il rischio di andare a ricercare dei deal subottimali e ci sono tantissimi fondi di private equity che metteranno pressione a questi promoter delle SPAC per fare le acquisizioni quindi potrebbero commettere dei gravi errori nel futuro e al momento ci sono circa 500 SPAC attive con 138 miliardi raccolti che sono disponibili per essere investiti in delle aziende che hanno volontà o comunque possibilità di quotarsi qui dice che Buffett avrebbe 70-80 miliardi che può utilizzare per investimenti e acquisizioni varie di norma loro hanno sempre tenuto da parte un 20 miliardi di sicurezza però adesso la dimensione di Bercher è aumentata notevolmente quindi probabilmente questi 20 miliardi di sicurezza che non possono toccare in alcun modo sono raddoppiati però non l'ha detto di preciso quanto dovrebbe essere questo incremento qui dice che chiaramente è più efficiente un buyback rispetto a un dividendo e ovviamente col buyback tu vai a comprare l'azione di uno e gli permetti un exit dice che è molto più efficiente a livello di tasse e Munger dice che chi critica questo repurchase sul dividendo è un pazzo e poi dicono che il governo dovrebbe comprare delle azioni di Bercher anziché mettersi a tassarli perché così percepiscono dei rendimenti senza dover prendere soldi direttamente dall'azienda qui sono molto conservativi con la loro posizione cash perché comunque sanno che ci sono alcuni azionisti che sono totalmente investiti nell'azienda e quindi non possono fallire non possono prendersi dei rischi troppo grossi scommettere che l'economia migliorerà sul lungo periodo è molto facile ma prevedere quale cavallo vincere nella corsa è molto difficile quindi questo è per dire che lo stock picking è molto difficile e non dovrebbe essere fatto qui un passaggio molto interessante che mi ha stupito ha letto sulle airlines, sulle compagnie aeree loro vendettero praticamente sui minimi a marzo e hanno detto che probabilmente se loro non avessero venduto quelle azioni lì il governo americano non sarebbe intervenuto perché comunque il governo americano avrebbe potuto pensare che Bercher e comunque Warren Buffett avrebbero fatto iniezioni di capitali invece uscendo loro hanno dato un segnale del fatto che la situazione era veramente critica e quindi c'era bisogno di un interventismo del governo qui non lo so se l'ha letto un po' di astuzia per dire ah guardate che noi vi abbiamo permesso di guadagnare sulle airlines e non abbiamo fatto un errore così grave oppure per dire ah noi siamo un po' dissociati dal governo il governo non salva noi non lo so un po' furbet secondo me ed è da vedere questa prospettiva è molto interessante per riflettere non so fatemi sapere cosa ne pensate di questa politica di Warren Buffett e poi chiaramente dice che la situazione era totalmente diversa ai tempi loro potevano investire 50-75 miliardi ma non l'hanno fatto prima che la Fed agisse come ha agito e ai tempi la situazione era tale per cui Berkshire non poteva emettere debito perché nessuno glielo avrebbe comprato e grazie all'interventismo della Fed persino Carnival Cruise Lines che sarebbe una crociera che era praticamente fallita perché non andava più nulla era strainebitata a costi di struttura elevatissimi questa azienda praticamente fallita dopo l'interventismo della Fed riusciva a emettere debito e infatti hanno raccolto tantissimi miliardi adesso non ricordo di preciso e poi ovviamente il Congress ha agito dal lato fiscale e le cose sono cambiate molto ma molto in fretta e la finestra di investimento era molto piccola e loro non sono riusciti ad agire e a cogliere le opportunità e neanche potevano prevedere questo secondo me è interessante da dire perché molti col senno di poi stanno dicendo ah loro hanno sbagliato a non agire col senno di poi sono bravi tutti perché al tempo o eri long già da un tot e non si è uscito oppure magari ci sono addirittura quelli che sono dei notizi hanno scoperto il trading proprio a marzo 2020 e adesso si entrano dei geni però questa è una maratona vediamo tra vent'anni chi è davanti e chi è riuscito a trattenere tutti questi soldi poi dice che loro non riescono a comprare azioni di altre aziende più in basso di quanto non riuscirebbero a comprare loro quindi sostanzialmente dice che le loro azioni le azioni di Berkshire sono molto più sottovalutate di tutte quelle possibili da acquisire sul mercato libero e loro hanno fatto dei buyback con un bel po' di soldi ultimamente poi ritornano sempre sul business energetico dicono che è importante la trasmissione di questa energia creata hanno già investito 5 miliardi poi la railroad line sostanzialmente ha in previsione di ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 30% entro il 2023 e sono già all'interno dei parametri del Paris Agreement degli accordi di Parigi e ovviamente il problema sostanzialmente qual è? che bisogna portare l'energia da dove è generata all'energia dove è necessaria ovvero dove le persone lavorano poi parlano del fatto che non devono essere d'accordo su ogni minima cosa e questo commentatore dice che stavano facendo implicazioni su COSCO e Munger dice che probabilmente è un più grosso fan di COSCO invece a Warren un po' così non gli interessa si conoscono 62 anni e non sono mai stati arrabbiati l'un l'altro poi dicono che Tim Cook è uno dei migliori manager al mondo e che hanno sbagliato e comunque si pentono di aver venduto delle azioni Apple e dicono che il loro circle of competence su Apple è molto più forte rispetto a quello che hanno ad esempio su Facebook o Amazon e comunque le Big Tech dice che coi tassi a zero sono sottovalutate secondo lui poi vanno a commentare l'MMT la Modern Monetary Theory e questo è un po' strano che loro la prendano un po' come esempio però alla fine se andiamo a vedere cosa stanno facendo le banche centrali il principio che c'è dietro un po' è quello lì dice che probabilmente funzionerà più di quanto le persone immaginano ma non funzionerà per sempre come vogliono questi teoristi al core e poi dice che bisogna essere molto modesti quando si fanno delle proiezioni macroeconomiche e secondo me il senso di questa frase è che lui dice che i macroeconomisti sono scarsi e che non dovrebbero proprio farle cioè questa è la mia interpretazione poi non lo so ditemi voi in ogni caso dice che se continuano così con questo printing di money sarà un disastro poi parlano del gambling dicono che il day trading ha delle probabilità di riuscita un po' migliori rispetto alle lotterie nazionali Munger dice che non critico il pesciolino che fa delle scommesse però gli dà fastidio che ci sono delle persone che gestiscono il casino perché i promotori venderanno qualsiasi cosa purché riescano a generare delle commissioni poi qui la citazione investire adesso è molto più difficile e la generazione dei millennial ma secondo me più che la generazione dei millennial io direi la Gen Z ovvero quelli nati dopo il 96 avranno difficoltà a fare soldi e a diventare ricchi con un piccolo caveat probabilmente alcuni di loro hanno investito in dogecoin o in crypto e hanno fatto tanti soldi però per quelli che non hanno ancora iniziato si farà molto dura probabilmente e sicuramente nessuno ti dice quando questa mania finirà quindi c'è sempre da stare molto cauti poi parlano di efficientamento fiscale dice che Munger non si trasferirebbe però molti lo potrebbero fare e quindi gli unici che non possono farlo sostanzialmente sono le aziende le compagnie che non sono multinazionali o transnazionali e loro prendono quello che c'è sul tax rate e non fanno queste mosse di efficientamento fiscale anche se io non ci credo molto e poi questo molto interessante Buffett preferisce donare tutto in carità piuttosto che ridurre il debito governativo degli Stati Uniti praticamente sta dicendo che lo Stato non è efficiente nella sua spesa poi parlano di questo deal di Kansas City Southern che è una compagnia di railroad, di ferrovie ve ne ho parlato sul canale Telegram e questo deal non sarebbe avvenuto non sarebbe potuto avvenire se i tassi di interesse fossero stati più elevati ovviamente questo è un competitor e loro non l'avrebbero comprato questo competitor dice per il prezzo ma secondo me anche a livello di antitrust seppur le linee ferroviare siano distinte però comunque un'acquisizione orizzontale non lo so ci sono play money, soldi finti, soldi da giocattolo in questo ambiente con tassi di interesse così bassi e poi dice se i prezzi sono questi qui ovvero molto elevati sulle acquisizioni non saranno fortunati infatti i soldi sulle acquisizioni li fai quando stai comprando una cosa che vale poco che sta scambiando prezzo basso qui i prezzi sono troppo elevati quindi niente fortuna per loro qui dice che investire non è come avere dei figli o dei bambini piccoli perché i brutti investimenti si riducono e riducono questo non lo so se è per criticare i figli dicendo che i figli sono peggio degli investimenti nel senso che un figlio che non è un buon figlio continua a produrre dei danni mentre un investimento che va male non conta più niente dopo un tot non lo so dite di voi qual è la filosofia dietro a questa affermazione perché sono proprio curioso qui parlano della missione su marte e se loro farebbero un'assicurazione sulla navicella spaziale dicono Buffett che lui se c'è Musk a bordo gli farebbe un'assicurazione però il CEO di Geico dice che non gliela venderebbe il CEO di Geico dice che sarebbe molto preoccupato a assicurare Elon Musk dall'altro lato questo cosa significa? non significa che Elon Musk è infallibile ma anzi significa che Elon Musk è molto fallibile secondo questo CEO quindi secondo lui la missione su marte fallirà e se c'è Musk sopra moriranno tutti cioè non lo so questa è la mia interpretazione delle loro parole qui dicono che la Cina sta andando forte e che il sistema fatto dal partito comunista cinese sta andando molto bene e dice che non si è mai visto altrove secondo me altrove si è visto e non farei tanti complimenti ai comunisti cinesi che in Italia erano fascisti diciamo poi dice che gli piacciono le banche ma non gli piace l'esposizione che avevano le banche sul suo portafogli e le banche negli Stati Uniti vanno molto forte questo è verissimo sicuramente qui dice che ci sono dei problemi causati dai miti creati dalle persone all'interno di una organizzazione e quando vengono ripetuti creano enormi errori potrebbe fare nomi ma non li farà secondo me probabilmente parla di Elon parlano del costo della sanità negli Stati Uniti in Singapore è il 20% di quello che costa negli Stati Uniti e la sanità usa è un disastro però Warren Buffett con JP Morgan e Amazon avevano tentato di sostanzialmente cambiare lo status quo ma non ce l'hanno fatta e quindi magari questo è un segnale di forza di forza veramente stratosferica degli insurer che possono essere un Hatted Helt o questi qui perché se persino Warren Buffett JP Morgan e Bezos non ce l'hanno fatta scalzarli che lezioni ne prendete voi? qui arriviamo alle scommesse su Robin Hood e ovviamente loro si lamentano dicono sostanzialmente che non si può costruire una società attorno all'istinto delle persone di scommettere e spera che queste scommesse sulle opzioni sostanzialmente non aumentino e poi Munger non gliela manda a dire all'apparato statale sostanzialmente che dice che è peggio di Robin Hood ed è peggio della mafia perché loro hanno creato delle lotterie statali tali per cui hanno rubato i giochini sui numeri alla mafia dice che Robin Hood e i suoi rivali stanno tassando le speranze e sostanzialmente dice che quelli che stanno operando su questi broker qui stanno solo giocando alla lotteria e quindi cosa sta dicendo? sta denigrando quelli che fanno scommesse su Robin Hood sta dicendo non capiscono niente prima o poi perderanno tutto come perdono tutto quelli che giocano alle lotterie si ritorna su Chevron e dice che ha beneficiato la società in vari modi questo mi fa ridere questo non mi piace fare giudizi morali sulle azioni invece proprio quello che sta facendo cioè lui dice ah il broker delle lotterie no però questa che fa petrolio e energia si è fantastico numero uno poi dice le persone estremiste da entrambi i lati sono un po' pazze e sarebbe praticamente impossibile ridurre il consumo di idrocarburi entro tre anni non funzionerebbe mai e quello la transizione ecologica che stiamo facendo verso il solar o verso il wind deve essere fatta su un periodo temporale bello lungo e poi dice questa è una bella frase ogni business ha qualcosa che se tu conoscessi non ti piacerebbe e tu non puoi aspettarti la perfezione il tuo partner il tuo marito o la tua moglie o nei tuoi amici o nelle compagnie perché tanto non la troverai mai questa perfezione qui dice che sostanzialmente le banche vengono aiutate dalla Fed però la Fed non sarà mai dietro a Berkshire questo non lo so non sono sicuro soprattutto considerando quanti treasury ha Berkshire e poi questo commentatore dice che leggendo un po' tra le righe secondo lui Buffett si lamenta di aver schillato tante persone si lamenta di essere stato così aperto spiegando alla gente come si investe qui parla della grid della linea elettrica texana che ha avuto dei problemi con con quella tempesta di neve a febbraio 2021 e ci sono sorti gravissimi problemi e tantissime aziende non hanno potuto operare e sostanzialmente quindi per risolvere la questione c'è stata una proposta sia di Elon Musk che una proposta di Berkshire e ovviamente quelli più attenti alla scienza preferiscono quella di Berkshire perché è più concreta e sostanzialmente la proposta delle batterie di Elon Musk dice che non piace inoltre loro hanno aggiunto che se non riusciranno a deliver a eseguire questa soluzione a consegnarla loro pagheranno una penale di 4 miliardi quindi diciamo che la proposta di Berkshire dovrebbe essere migliore e poi ovviamente loro lasciano lo spazio poi al governo del Texas di scegliere quale sarà la proposta migliore poi hanno parlato un po' di inflazione e questo commentatore dice che sentendo quello che stanno dicendo ha una voglia matta disperatissima di farsi un mutuo a 30 anni a tasso fisso qui ribadiscono sempre sulla questione fiscale cosa hanno imparato nell'ultimo anno Warren Buffett ha detto di ascoltare di più Charlie e Munger dice che siamo in territorio inesplorato uncharted territory è un termine stra abusato sulla CMBC ad esempio qui qualcuno gli ha chiesto di Jim Simmons che è il quant trader super top poi magari vi dirò perché credo sia super top o meno e sostanzialmente dice che noi non siamo bravi trader e faremo meglio a non vendere mai ciò che compriamo perché le cose che vendiamo continuano a salire probabilmente qui c'è una cosa che a me non convince molto e non è molto piaciuta diciamo Munger dice che è profondamente immorale fare uno stock buyback per far salire il prezzo dell'azione ma se lo compri per fare la scelta giusta nell'interesse degli shareholder resistenti allora è una cosa super morale e le persone che stanno criticando sono pazze secondo me qui parlano un po' da furbetti come abbiamo visto in altre citazioni e qui andiamo sulla parte del bitcoin che secondo me è molto interessante Charlie Munger se avete già letto sul mio instagram dice che odia il successo del bitcoin e ha detto che secondo lui il bitcoin non fa sviluppare la civiltà sostanzialmente e non si metterà a criticarlo ma l'ha appena fatto qui dice perché lo usano i sequestratori o quelli che fanno estorsione così miliardi miliardi questo fuori di testa secondo me però questo qui un commento di quello che di quello di cui sto riportando i commenti dice una cosa molto vera e sostanzialmente dice che quelli che si stanno arrabbiando molto e lo stanno criticando perché cioè io sto andato a leggere gliene hanno detto gliene hanno dette di ogni quelli che stanno criticando chi critica il tuo investimento e ti attacca qui un commento di questa persona da cui sto riportando questi transcript dice una cosa molto intelligente molto condivisibile secondo me dice che ci sono persone che si sono arrabbiate moltissimo e lo stanno veramente criticando tantissimo Charlie Munger sostanzialmente dice che se tu critichi un investimento di una persona e questa persona ti attacca per la persona che sei per l'età che hai piuttosto che per l'idea che hai espresso che è contraria alla tua allora probabilmente stai mostrando una mancanza di confidenza in ciò che stai detenendo in ciò in cui hai investito e poi dice che Bitcoin secondo lui non andrà a zero però comunque Charlie Munger lo odia e secondo Charlie non ha assolutamente senso che sia percepito come una cosa di valore anzi è una cosa che danneggia la società percepire il Bitcoin come un qualcosa di valore e poi però non ci ha attaccato un prezzo non ha detto il Bitcoin dovrebbe crollare ha detto solo che lui non gli piace qui un commento a margine non è stato detto dai due investitori dice che una cosa molto vera dice che non è più un investimento per tante persone ci sono i sogni ci sono le speranze c'è la loro identità nel Bitcoin praticamente è una dichiarazione di stile di vita e quindi bisogna fare molto attenzione è molto pericoloso quando le persone personalizzano un investimento e si immedesimano nell'investimento stesso e questo investitore qui dice lui è in Berkshire da molto tempo però Berkshire non è la sua identità mentre se tu leghi la tua identità al Bitcoin la tua reputazione al Bitcoin e l'identità del Bitcoin è un sinonimo della tua identità allora lì ci sono dei problemi ma dei problemi più a livello psicologico direi perché appena uno prende e ti attacca e attacca il Bitcoin e tu dici ah questa persona sta attaccando me non sta attaccando l'investimento che ha fatto e quindi la cura è di non personalizzare mai un investimento e qui concludiamo con un'altra citazione di Charlie dice o diceva in altri campi in altre situazioni diceva io non ho mai un'opinione in qualcosa che non conosco o meglio in qualcosa di cui non so il tema dell'altro lato meglio degli altri e qui chiudiamo con una citazione un po' emblematica di Charlie Munger dice sostanzialmente io non mi permetterei mai di esprimere un'opinione su qualcosa che non conosco meglio di quanto la conosca la controparte con cui io sto interagendo e questa è una citazione saggia però in questo caso forse è un po' è un po' uscito fuori dagli schemi e niente spero vi sia piaciuto questo recap mettete like se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale condividetelo con i vostri amici e ci sentiamo alla prossima grazie a tutti ciao ciao ciao